In studio, Viviana Sammito. Buonasera ancora, ben trovati a MTG in apertura della politica. Andiamo a Scicli perché per Forza Italia il sindaco Enzo Giannone è in totale stato di confusione, mentre per Marianna Buscema, il primo cittadino, si sta rendendo conto forse troppo tardi di aver perso troppi pezzi. Il sindaco intanto conferma l'appuntamento di domani con le forze del centro-sinistra in città. Sul posto per noi, Marco Scavino. Il giorno prima dell'incontro che potrebbe segnare l'inizio di nuovi scenari politici a Scicli, l'opposizione inizia a pronunciarsi. È di oggi una nota prodotta da Forza Italia. Ai nostri microfoni il consigliere Marino. Provocatoriamente abbiamo detto in dialetto usino copersi e emule e poi cercando di capire. Perché questo passo doveva essere fatto almeno quattro mesi fa. Per come la vedo io, non si definirà in tempi brevi. Ho grossi dubbi anzi sulla risoluzione di questo strappo. Per Marianna Buscema la situazione è chiara. Il sindaco sta iniziando, meglio ha preso consapevolezza del fatto che non ha più una maggioranza e che adesso deve mostrare più umiltà e apertura nei confronti dell'opposizione. Il sindaco esca da questo stallo al più presto con una soluzione definitiva, con una soluzione anche forte se necessario perché il paese non soltanto va lento ma in questo ultimo periodo è proprio immobile. A non volersi ancora sbottonare su quanto sta accadendo la presidenza del Consiglio. Il presidente Danilo De Maio si pronuncerà nelle prossime ore ma soprattutto successivamente al vertice previsto per la giornata di domani. Tra il sindaco di Scicli Enzo Giannone, Scicli Bene Comune e il Partito Democratico. Intanto nella mattinata di oggi il sindaco Giannone ha diramato una nota dove esprime soddisfazione per le critiche mosse dall'opposizione, in particolare dalle forze di destra. Vuol dire che a Scicli, si legge nella nota, sta finalmente tornando la normale dialettica politica, al di là e oltre degli inciuci fra forze disomogene sul piano politico e culturale. Circa il conseguimento della patente di uomo della sinistra e del centro-sinistra mi spiace ricordare ai più giovani, si legge ancora nella nota, ma lo faccio con affetto quasi paterno, sottolinea Giannone, che la mia storia personale, politica, umana e intellettuale mi ha visto sempre schierato e impegnato dalla parte degli ultimi, da uomo che non ha paura di usare la parola popolo, temendo di essere frainteso. Si legge ancora nella nota, a firma del sindaco di Scicli, Enzo Giannone. Se Giannone, al di là del discorso della sinistra, ma se Giannone dovesse bussare alla sua di Porta, come reagirebbe? Io mi sono sempre comportata in questi due anni e mezzo in uno spirito critico su ogni singola cosa che ci è stata presentata in Consiglio Comunale. Ciò che io ho ritenuto essere positivo e bene per la città l'ho sempre votato e così continuerò a fare, ma con una posizione chiara. Io non faccio un gioco di politica per la politica, non mi interessano le poltrone, per cui io ritengo di voler rispettare il voto dei cittadini che mi hanno posto all'opposizione, nello spirito sempre di accogliere tutto ciò che è bene. Quindi resta l'opposizione, come ha potuto far capire dalle sue parole, ma quello che volevamo anche capire è, secondo lei, si torna a votare? Non lo so, è un po' prematuro per dirlo, però l'aria è tesa e quindi non mi sorprenderebbe anche in decisioni estreme da parte del primo cittadino. Con la politica ci spostiamo a Palermo perché si è tenuta una riunione straordinaria convocata dal presidente della regione Nello Musumeci questa mattina dopo la brusca frenata di ieri in aula sulla legge di stabilità. L'Assemblea infatti ha bocciato con alcuni franchi tiratori la norma che spalma un disavanzo di 544 milioni nel triennio. La regione siciliana da quasi due settimane si trova in gestione provvisoria con l'autorizzazione solo al pagamento delle spese obbligatorie. La riunione straordinaria di giunto è stata convocata da Musumeci con un solo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del presidente. A termine il governatore si è chiuso nel suo ufficio senza lasciare filtrare alcuna indiscrezione. ad affossare la norma sul disavanzo sono stati infatti 6 franchi tiratori della maggioranza di centro-destra, 36 voti contrari e 26 e 29 quelli a favore. La seduta per l'esame della manovra è proseguita oggi pomeriggio. Secondo il capogruppo del PD All'Ars Giuseppe Lupo questa manovra va riscritta perché non piace neppure alla maggioranza. La Camera di Commercio non ha nessun debito, lo ha affermato il presidente questa mattina del punto della Camera di Commercio del sud-est Pietro Agen, sviscerando i numeri e rimandando al mittente le accuse del default. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Sara Donzuso. Fare chiarezza sui conti è la Camera di Commercio del sud-est. Ci tiene il presidente Piero Agen che stamane nel corso di una conferenza stampa ha evidenziato come non ci sia nessun default e nessun debito. Chiare le risposte è il presidente che sottolinea come in questo momento ci sia una liquidità di ulteriori 12 milioni di euro, per un totale di circa 70 milioni di euro, mentre ci sono debiti per circa 3 milioni di euro. Abbiamo circa 70 milioni di depositi, abbiamo un tempo di pagamento delle fatture 6 giorni, virgola 46 prima della scadenza, se togliamo le pensioni chiudiamo con un utile intorno ai 4 milioni all'anno, beh se siamo in default è in default in mondo, che devo dire. C'è stata una perdita a chiusura 2018? Assolutamente no. Abbiamo semplicemente messo per correttezza nel bilancio il pagamento delle pensioni, che non dovrebbe essere pagato con le spese correnti e che in futuro non sarà pagato con le spese correnti, e questo ha provocato figurativamente una perdita, ma il bilancio, tenendo anche conto che abbiamo previsto oltre un milione e mezzo di investimenti per lo sviluppo, avrebbe senza questo passaggio chiuso con un attivo di alcuni milioni. Si venderà SAC Suaco? Venderemo il sistema aeroportuale del sud-est, ma non certo con la fretta, perché abbiamo detto il giorno in cui io mi sono insediato, lo avevamo detto anche precedentemente, che se vogliamo che i nostri territori crescano c'è necessità di privatizzare. Presidente, come risponde al CODA, al Comitato Vussia che invece parlano in default e di rivedere anche gli assetti camerali? Perché il signor Petrone dice leggerò i bilanci e poi, ma come dice che siamo in default e non è che ha letto i bilanci? Beh, allora o gli hanno passato il pezzo o forse non li sa leggere, non so cosa dire. Il signor Vussia, scusate signori, parliamo di cose serie. Analizzando la situazione delle altre Camere di Commercio, Agene fornisce numeri precisi e interviene anche dettagliatamente sull'aeroporto di Comiso. In questo momento la Camera di Commercio di Catania, originaria, ha depositi per 31 milioni di euro, quella di Siracusa c'era per 14 milioni e 8 di euro, quella di Siracusa c'era di 5 milioni di euro. Vedete un po' le differenze. Comiso è una parte del sud-est, io dico sempre che è la seconda pista del sud-est. Se poi non creiamo i collegamenti per far crescere Comiso, allora qui c'è un problema. Parliamo adesso di cronaca perché solo dopo aver guardato una ragazza, un giovane, 21enne di Patano, ha rischiato la vita, il fidanzato di lei, ha organizzato una spedizione punitiva cercando di investirlo e assalendolo, sebbene fosse privo di sensi. I carabinieri hanno arrestato quattro persone. Quattro persone sono state arrestate lo scorso 9 febbraio dai carabinieri. L'accuso è il tentato omicidio aggravato commesso in concorso. I fatti risalgono il 29 gennaio, quando un giovane a bordo di un'autovettura ha travolto volontariamente un altro giovane di 21 anni nella piazzetta delle fontane di Paternò. I carabinieri, acquisiti dalla notizia di reato sul delega della procura di Catania, hanno avviato un'attività investigativa volta a ricostruire l'accaduto. Si è appurato come l'insano gesto fosse scaturito da una banale lite, avvenuta qualche ora prima nel parcheggio di un distributore di benzina. È proseguita poi su Facebook tramite applicazione Messenger. Lite generata dal fatto che il 21enne avrebbe guardato la finanzata di un altro giovane. Un affronto mal digerito dal ragazzo, che insieme ai suoi familiari ha organizzato una vera e propria spedizione punitiva. I quattro soggetti dunque si sono recati a bordo di due autovetture diverse presso piazza e le fontane per cercare di investire il giovane ignaro di tutto. Grazie a un sistema di videosorveglianza è stato acquisito un non filmato, che ha permesso di immortalare tutte le fasi alla condotta delittuosa. In particolare intorno alle 22.30 del 29 gennaio, il giovane è stato travolto intenzionalmente da un'autovettura, un Alfa Romeo 147, con a bordo i due finanzati. Negli stessi momenti giungeva una Fiat Idea con a bordo i familiari e l'aggressore, il padre, il fratello e il cognato, i quali scesi al veicolo hanno aggredito fisicamente gli amici del ragazzo e hanno tentato di aggredire nuovamente quest'ultimo, riverso a terra e privo di sensi. Dopo pochi istanti i soggetti si sono dati alla fuga. Nei giorni seguenti gli autori del delitto nell'attentativo di depistare le innagini hanno venuto ad un terzo soggetto, l'Alfa Romeo 147, utilizzata per la commissione del tentato omicidio. Il veicolo a tutta via è stato intercettato dai carabinieri e sottoposto a sequestro. Parliamo ancora di cronaca perché reclutavano le minorenni Nigeria e Libia, le costringevano ai viaggi disumani. Una volta arrivate in Italia da Roma, venivano trasferite a Catania dove venivano costrette a prostituirsi. Quanto è emerso dall'operazione condotta dalla squadra mobile di Catania. Con l'operazione RUT 385 la polizia di Catania ha tratto in arresto 5 persone. Sono accusata a vario titolo in un concorso con altri soggetti allo Stato non identificati in Nigeria e in Libia dei delitti di tratta di persone pluriaggravate dalla transnazionalità del reato, dall'aver agito in danno di minori, di aver esposto le persone offese ad un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica, facendo loro attraversare il continente di origine sotto il controllo di criminali che le sottoponevano a privazioni di ogni genere e a diverse forme di violenza e facendole giungere in Italia via mare a bordo di imbarcazioni occupate da moltissimi migranti ed esponendole ad un altissimo rischio di naufragio e ancora dei delitti di favoreggiamento all'immigrazione clandestina pluriaggravato nonché di sfruttamento della prostituzione. Tutto prende spunto alle dichiarazioni di una giovane cittadina ligeriana la quale, reclutata nel paese di origine, giunta in Italia, quale minore straniera non accompagnata veniva destinata al meretricio e dopo diversi mesi di sfruttamento riusciva a sottrarsi ai propri trafficanti. Nel dettagliato racconto della giovane si comprende che quest'ultima era oggetto di una più ampia operazione economica realizzata da due sorelle, una delle quali già nota alle forze dell'ordine, le quali ormai residenti in Italia diversi anni avevano avviato una fiorente attività economica nel settore della tratta di esseri umani. Le due donne, grazie ad appoggi in Nigeria e Libia, reclutavano giovani connazionali del paese di origine da adibire al mercato della prostituzione. Usavano anche i riti voodoo cui facevano sottoporre le vittime prima della partenza. Al racconto la ragazza ne è seguito quello di un'altra vittima sempre di prostituzione che lavorava sulla strada stradale 385 e che doveva sottostare ad un altro degli arrestati il quale chiedeva per ogni posto 100 euro. Senta di fornire un'altra identità agli agenti del commissariato di Modica per sottrarsi all'arresto. Un albanese di 35 anni è rientrato legalmente in Italia dopo l'espulsione ed è stato arrestato per violazione del testo unico sull'immigrazione. La polizia di Modica ha rintracciato in un'abitazione l'albanese già noto in passato per i numerosi precedenti quali traffico internazionale di droga, reati sull'immigrazione clandestina e possesso di documenti falsi. Il 35 anni ha esibito un nuovo passaporto albanese con generalità differenti pensando in questo modo di sottrarsi all'identificazione. Già in passato aveva fornito altri alias alle autorità ma questa volta è stato arrestato. Il PTE di Scollitti diventerà da lunedì 18 febbraio un punto di primo intervento. La continuità assistenziale sarà garantita lo stesso H24 con un'organizzazione diversa in grado di tutelare comunque la salute dei cittadini. Inoltre da 1 marzo arriverà un'ambulanza in più gestita dalla SEUS ed è anche stato scongiurato il rischio di soppressione del PTE di Chiaramonte-Gurfi. Almeno al momento. Sentiamo i dettagli in questo servizio. A Scoglitti da lunedì 18 febbraio sarà operativo il punto di primo intervento al posto del presidio territoriale di emergenza. È ufficiale. Ma spieghiamo subito cosa cambia. Dall'assessorato regionale alla salute e dalla Spiragusa ritengono che con questa formula i servizi di emergenza-urgenza non solo sono garantiti ma anche più efficaci. L'unico dato che potrebbe allarmare è che i quattro medici del PTE saranno distribuiti nel pronto soccorso di Vittoria e di Modiga e con turni integrativi. Il PPI è una struttura ambulatoriale attiva dove operano i medici di continuità assistenziale che garantiscono all'utente una risposta sanitaria appropriata e veloce agli interventi che non rivestono carattere di urgenza. Nel PPI a Scoglitti la continuità assistenziale sarà garantita H24 con un'organizzazione diversa in grado di garantire la salute dei cittadini. Nello specifico funzionerà una guardia medica dalle 20 alle 8 nei giorni feriali dalle 8 alle 20 l'assistenza sarà garantita dal PPI che è il punto di primo intervento per il quale l'ASPA acquisterà con urgenza un sistema Life Pack per l'emergenza cardiologica che permette di stabilire cosa accuse il paziente e rapidamente e con semplicità somministrare le funzioni terapeutiche avanzate e inoltrare anche nel reparto di cardiologia il quadro clinico. Inoltre, nei giorni prefestivi e festivi l'assistenza sarà assicurata H24 dal servizio di guardia medica. Inoltre, nell'ambulanza in notazione del PPI in casi gravi c'è il medico della guardia medica e dal 1 aprile sarà disponibile una seconda ambulanza con gestione della SEUS. Il centro di Vittoria con oltre 65.000 abitanti avrà un'ambulanza del 118 medicalizzata di cui prima non era dotata nonostante un alto numero di residenti. Di questa nuova organizzazione che mette ordine se ne avvantaggerà il pronto soccorso dell'ospedale di Vittoria con un aumento di turni e con un'assistenza maggiore nel territorio. Garantita comunque dall'ambulanza di Vittoria. L'ambulanza medicalizzata con un medico a bordo garantisce di fare diagnosi e la tempestività di provvedimenti terapeutici che solo un medico può garantire. Scongiurato il crischio di chiusura del PTI di Chiaramonte e Gulfi e quell'arma era stato lanciato dai deputati regionali Iblei il manager Angiore Licuo ha chiarito che accertando gli ingressi è stata ravvisata un'imprecisione nei numeri che quindi devono essere rivisti. Considerata anche la distanza tra Chiaramonte e Gulfi e l'ospedale di Ragusa che è il più vicino è improponibile la chiusura del PTI. Non è escluso che l'assessore regionale alla Salute Razza arrivi in provincia nelle prossime ore per delineare meglio il quadro anche alla luce della nuova rete ospedaliera. E' pienamente operativo il servizio di fisioterapia nel presidio ospedaliero Maria Paterno Arezzo di Ragusa trasferito dal vecchio ospedale civile lo ha comunicato l'azienda sanitaria di Ragusa. Il servizio è allocato al primo piano del presidio ospedaliero in ambienti più ampi e confortevoli facilmente raggiungibile con percorsi al piano e con ascensori privi di barriere architettoniche in ausilio alla necessità degli utenti. La nuova collocazione rappresenta quindi un notevole miglioramento rispetto al passato tutto a vantaggio dell'utenza e del personale che vi presta servizio. Grosse novità in arrivo per quanto riguarda lo scalo merci all'aeroporto di Comiso dopo l'acquisizione di circa 15.000 metri quadrati nel cuore della città l'amministrazione ha grandi progetti per valorizzare l'area. Ce ne parla già da Giacquinta. Un'area molto vasta quella dello scalo merci che si trova a Ragusa tra via Archimede e via Le Telentelena che le ferrovie dello Stato hanno deciso di dismettere per il quale hanno già avviato contatti con l'amministrazione. Un percorso che idealmente finisce nell'area verde di Villa Margherita e che si collega alla vallata Santa Domenica che porterebbe i ragusani a riappropriarsi degli spazi della propria città. Abbiamo ricevuto una proposta formale dalla Società delle Ferrovie dello Stato che si occupa della dismissione del sito siamo fermamente interessati ad acquisire quest'area un'area di circa 15.000 metri quadrati nel centro della città quindi effettivamente è un'area dove si possono realizzare tante belle cose immaginiamo di trasferire nell'area dello scalo merci la nostra stazione degli autobus in modo che si possa creare un collegamento diretto immediato tra la stazione degli autobus e la stazione dei treni la stazione centrale che è proprio lì a ridosso e quindi potrebbe questo migliorare la circolazione all'interno della città potrebbe favorire i turisti che arrivando direttamente in quell'area lì poi potranno speriamo a breve tramite il treno spostarsi all'interno della città mi riferisco in particolare alla metropolitana di superficie quindi il discorso dello scalo merci è strettamente collegato anche con questa infrastruttura della metropolitana in superficie una cosa molto importante è che ci sarà la possibilità di accedere in quest'area dello scalo merci non soltanto alla via Carducci ma anche alla via Archimede la via Archimede è esattamente di fronte alla Sagra Famiglia perché abbiamo chiesto e ottenuto dalla società che gestisce l'operazione delle ferrovie dello Stato anche una striscia di terreno che parte dalla via Archimede proprio di fronte alla via della Sagra Famiglia arriva esattamente dentro lo scalo merci quindi questo sarà l'occasione il modo per arrivare dentro lo scalo merci anche dalla via Archimede ovviamente parlavamo dell'area dello scalo merci della città di Ragusa non dell'aeroporto di Comiso e dopo la proclamazione dello sciopero dei lavoratori del servizio di igiene ambientale indetto da FIA delle UGL di Ragusa per la giornata di martedì 19 febbraio la commissione straordinaria del comune di Vittoria ha convocato le parti ad un tavolo di mediazione l'incontro va a luogo a Palazzo Iacono proprio martedì 19 febbraio alle 16 l'obiettivo è cercare ogni possibile soluzione tesa a garantire un servizio sempre più efficiente ma anche la piena tutela del diritto dei lavoratori adesso siamo pronti per metterci in collegamento dal piccolo teatro di Paternò con Ruggero Sardo pronto anche lui per una nuova divertente puntata di Tele Siculissimi a te Ruggero amici di MTG buonasera benvenuti a bordo dell'astronave qui dal piccolo teatro di Paternò siamo pronti anche in questa serata di San Valentino a farmi compagnia a parlare di amore perché l'amore è una cosa meravigliosa e ci chiederemo l'amore eterno finché dura Giada lo scopriremo questa sera con i nostri ospiti un artista siciliano del quale dobbiamo essere orgogliosi il maestro Barbaro Messina con il quale parleremo di Pietra Lavica parleremo di opere d'arte e di un documentario molto molto interessante poi parleremo di tradizione della Sicilia di volontariato e di voglia di fare qualcosa per la nostra terra con Sicilia Antica e Giuseppe Loporto ci viene a trovare una cantautrice catanese siciliana fantastica il suo ultimo album pensate l'ha registrato negli States lei è Roberta Finocchiaro e poi con noi c'è l'avvocato Claudia Barcellona torna a trovarci Massimo Mauggeri e poi per me che amo le cose giuste il campione mondiale di pizza Luciano Carciotto insomma amici miei siamo pronti per parlare d'amore 22 e 5 video mediterraneo video mediterraneo.it non mancate perché se mancate ci mancate a dopo rimaniamo nel catanese con la soddisfazione dell'edizione 2019 di Sant'Agata il comitato per i festeggiamenti ha tracciato un bilancio evidenziando come gli episodi spiacevoli che si sono verificati e legati a una piccola cerchia di persone e non possono certo inficciare l'importante lavoro svolto è stata una festa delle più complesse di sempre ma ci regala una grande consapevolezza la stradenta presa è quella giusta e non si torna più indietro nel persistente maltempo nei comportamenti inaccettabili o irresponsabili di alcune persone poche per fortuna che hanno fatto male alla festa e si pongono fuori dalla festa hanno impedito che tutto si concludesse in insicurezza e secondo le direttive da parte di chi ha ormai la responsabilità definita nei diversi momenti sono queste le parole del presidente del comitato dei festeggiamenti per la festa di Sant'Agata Francesco Marano che insieme ai propri compionenti del comitato ha deciso di commentare quanto accaduto sia durante il rientro del giro interno del fercolo di Sant'Agata che all'ottava facendo una summa di questa grande e importante edizione 2019 possiamo dire ha aggiunto il comitato che abbiamo saputo affrontare un non grande esame dopo il lungo lavoro di questi anni a favore della legalità e di questi anni avviato con decisioni dove i tragici fatti è il 2004 e completato all'accomitato costituito nel 2015 da Arci Diocesi e Comune con i regolamenti che abbiamo emanato operando in un clima di sostegno e vicinanza da parte di tutte le istituzioni per quei pochi che non si adeguano alle regole alle legalità al senso civico diciamo che non c'è più spazio per indisciplina in sicurezza o tanto meno in legalità di qualsiasi tipo il fatto che il comportamento di queste persone sarà analizzato in modo approfondito alla squadra mobile dal procuratore Zucchero che ringraziamo ci conforta ancora di più Sant'Agata affermano i componenti del comitato tornando per l'ultima volta davanti ai suoi devoti prima di concludere questa edizione ci ha regalato un'ottava di serenità e riconciliazione con la piazza piena una processione partecipata e tranquilla è un'atmosfera molto positiva per Catania le direzioni CUC Repubblica e Territorio e Patrimonio su disposizione della Commissione Prefettizia Vittoria ha avviato l'iter per la predisposizione del progetto per la messa in sicurezza del Teatro Vittoria Colonna il teatro era stato chiuso il 23 novembre del 2018 a seguito di un sopralluogo dei vigili del fuoco che avevano constatato infiltrazioni d'acqua che rendevano pericolosa la struttura da giorni decorazioni con cuori e di colore rosto in attività commerciali o per strada ci ricordano che oggi è San Valentino c'è chi lo festeggia e chi lo trova invece una festa commerciale abbiamo chiesto ai modicani invece cosa ne pensano odi e tamo diceva Catullo l'amore può farci soffrire o renderci felici sentimenti contrapposti come l'opinione di chi abbiamo intervistato stamattina per capire in quanti festeggiano San Valentino e chi invece non ama particolarmente questa festa e si dividono tra chi non vuole neanche sentirlo nominare e chi invece romanticamente pensa che il proprio amato sia da festeggiare tutti i giorni lei festeggia San Valentino la festeggia San Valentino? no 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 la festeggio io non mi piace no no c'è il fidanzato ma è una festa che San Valentino è tutti i giorni quindi proprio il 14 non c'è piacere no purtroppo non ci credo credo nell'amore tutto l'anno poi c'è chi invece per San Valentino coglie l'occasione per far sentire importante il proprio amato o la propria amata anche se si è sposati da qualche anno quindi acquista qualcosina in regalo oppure trascorrerà del tempo insieme con una cena romantica a San Valentino c'è ancora chi regala rose? per mia moglie sì perché se lo merita per quanto tempo è che siete sposati? da dieci anni e lei però mantiene questa tradizione romantica sì fare regali o riceverli per San Valentino? riceverli è più piacevole già stamattina ho ricevuto il regalo abbiamo fatto colazione insieme e stasera ci concediamo una cena a tetto a tetto una borsa è solito fare questi regali romantici? sì mi ha abituato mia moglie comunque a farli perché prima non ero abituato però sai a forza di andare che abbiamo da 14 anni che stiamo insieme andiamo a cena fuori una cena anche un buon atteggiamento volersi bene non è che ci vogliono solo i regali per festeggiare tra i regali più gettonati intimo e torte personalizzate un modo dolce per festeggiare San Valentino e di soldo vendiamo le torte a forma di cuore questa è la cosa quella più principale quella che si vende di più ti chiedono anche delle scritte sopra sì 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 le frasi sono ti amo amore mio buon San Valentino abbiamo noi in specifico la collezione San Valentino collezione nuova 2019 c'è tanto nero c'è il rosso sono più gli uomini che acquistano per regalare o le donne che acquistano per se stesse acquistano per se stesse sono le donne e qualche uomo sicuramente piace sempre avere il regalo per questo giorno d'amore parliamo adesso di sport perché si è concluso il periodo di permanenza nel capoluogo Ibleo del tecnico americano Tim Springer che è stato ospitato alla Passalacqua a Ragusa per due settimane questa mattina il bilancio dell'attività davanti alla stampa il bilancio degli allenamenti di Tim Springer alla Passalacqua sono stati illustrati stamattina non poteva che essere un incontro emozionante per il tecnico americano della Spartan Basketball di Sant'Antonio allenatore individuale tra i più richiesti nel sud ovest del Texas tra allenamenti individuali e collettivi tanto per la prima squadra che per le ragazze e il settore giovanile incontri con il mondo scolastico come quello che si è tenuto al liceo scientifico Enrico Fermi di Ragusa insieme con alcuni studenti dell'istituto perché come ha dichiarato Stefano Passalacqua della Virtus Irene la formazione è un momento essenziale per crescere e impiegare risorse in questo senso è qualcosa che ha certamente un ritorno ci siamo rivolti a Tim che è un tecnico esperto e che ha portato con sé l'approccio che si usa negli Stati Uniti dove nel basket sono sempre stati più avanti di noi ha commentato Passalacqua parliamo di formazione soprattutto ai tecnici perché la venuta di Tim serve soprattutto a questo insomma provare a capire dai migliori che ovviamente sono con i colori stelle strisce quindi sono loro il nostro riferimento provare a capire cosa possiamo fare per migliorare per andare avanti per crescere un po' in tutto non solo così come mentalità perché gli americani insomma il loro rapporto in termini di mentalità è sicuramente superiore al nostro ma anche dal punto di vista tecnico il tecnico americano ha spiegato che gli allenamenti individuali sono un momento importante per poter migliorare la tecnica di ogni singolo giocatore è sicuramente importante l'allenamento individuale perché il basket è un gioco di abilità e di capacità e andando ad accrescere appunto queste capacità aumenta sì l'abilità ma aumenta soprattutto anche la fiducia del giocatore la fiducia che ha in se stesso se ha fiducia in se stesso è in grado poi di eseguire le cose che abbiamo provato in allenamento anche in partita accrescono le abilità cresce la sua fiducia ed è un circolo è entusiasta il professore Criscione che ha voluto sottolineare la propria soddisfazione per l'esito dell'incontro che si è tenuto al Fermi di Ragusa sono state due ore nelle quali i ragazzi sono stati letteralmente incollati alle sedie facendo dei gruppi autonomi per la traduzione a Team Springer sono state rivolte tantissime domande segno che l'incontro ha riscosso un grande interesse da parte degli studenti è tutto grazie per averci seguiti fin qui e a tutti voi ancora buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti